Progettare una mano bionica capace di azionare tre dita. E' questo il compito che si è previsto Emanuele Aliotta, titolare dell'omonimo centro ortopedico e del progetto mano bionica, finanziato dall'Università TA di Malta, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Sistemi e Controllo Ingegneristico e Intelligenza Artificiale. Lo studio scientifico della durata di tre anni sarà interamente finanziato dall'Ateneo Maltese, che ha investito circa 220.000 euro con il preciso obiettivo di sviluppare le protesi della mano in commercio sviluppando il compromesso tra semplicità, agilità e usabilità, con la possibilità di eseguire un esercizio sistematico e cercare, per la prima volta, una soluzione di utilizzo pratica e indispensabile ad ottimizzare la vita dei pazienti. Grazie. 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 Grazie.